Ciao, sono Daniele, responsabile commerciale del negozio online di sanitario e arredamento per il bagno a geobagno.it. Hai mai sentito parlare di bonus mobili? La legge di stabilità di quest'anno, 2019, ti permette di effettuare una proroga del bonus che prevede delle detrazioni molto interessanti sull'acquisto di alcuni elementi utili per la casa, come gli elettrodomestici, l'arreto casa e i mobili per il bagno. Quali sono le novità della legge di stabilità 2019? Innanzitutto, il termine ultimo per usufruire della validità del bonus mobili ed elettrodomestici è fissato al momento al 31 dicembre 2019. Quindi, fino a questa data, se vorrai effettuare dei lavori di ristrutturazione nella tua abitazione o acquistare dei nuovi mobili o degli elettrodomestici, avrai a disposizione uno sconto IRPERF che corrisponde al 50% della spesa per le azioni effettuate, fino ad una spesa massima di 10.000 euro. Come si ottengono le detrazioni? Potrai ottenere le detrazioni tramite dichiarazione dei redditi effettuati attraverso il modello unico o il 730. Come puoi vedere, sono diverse quindi le possibilità per apportare dei miglioramenti all'interno della tua abitazione, in cucina, in salotto, camera da letto e anche nella stanza da bagno. Quindi, perché non approfittarne? Ma a chi aspetta il bonus mobili ed elettrodomestici del 2019? Puoi usufruire della detrazione del 50% nei seguenti casi. 1. Nello specifico, parlando del bonus ed elettrodomestici, quest'ultimo lo puoi utilizzare esclusivamente se acquisterai apparecchi con classe energetica non più bassa dell'APIU e che abbiano un'apposita etichetta energetica. 2. Lo puoi richiedere se sei soggetto all'IRPEF e hai una esidenza in Italia o anche all'estero. 3. Se hai a disposizione un compromesso oppure un contratto per eliminare, purché questo sia registrato in modo regolare. 4. Se sei proprietario di un immobile, usufruttuario in condizioni di nuda proprietà, di affitto, di comodato d'uso. 5. Se sei socio in una cooperativa o società o hai un'impresa familiare solo nel caso in cui l'edificio non abbia un utilizzo strumentale. 6. Se sei titolare di una società che abbia un reddito relativo alla tassazione IES. 7. Se sei un imprenditore individuale, anche in questo caso l'immobile non deve avere un uso strumentale. Questo ci può essere richiesto anche dal coniuge o dai parenti entro il terzo grado oppure dagli affini entro il secondo grado che vivono nella stessa abitazione del proprietario. 7. Secondo la legge, possono accedere alle agevolazioni previste della proroga della legge di stabilità 2019 anche coloro che vivono nello stesso immobile di chi ha il diritto sulla proprietà che è soggetto al bonus. 8. Importante è da specificare che i lavori di ristrutturazione necessari per usufruire della proroga del bonus per il 2019 dovranno essere effettuati a partire dal 1 gennaio 2018. 8. È proprio a partire da questa data che scatta la possibilità di utilizzare il bonus anche per quanto riguarda l'acquisto di mobili per la casa. 9. Inoltre, ti ricordo che l'inizio ufficiale dei lavori di ristrutturazione deve essere provato attraverso un'apposita documentazione che ha il compito ben preciso di indicare che si ha diritto a tale bonus. 10. Sto parlando nello specifico di alcuni documenti come la SCIA, la DIA, la CILA o la CIL. 11. In alternativa, puoi presentare anche una docertificazione che attesti la data all'inizio degli interventi nel caso in cui vengono effettuati i lavori in edilizia libera. 11. Si tratta di un intervento legislativo molto importante secondo le stime dell'associazione di categoria perché questa operazione fino ad oggi avrebbe portato lavoro a più di 10.000 persone che operano nel settore. 12. Quindi nel caso in cui stai facendo un ordine sul nostro portale e vuoi soffrire di tale bonus sarà necessario effettuare l'ordine standard e richiedere il numero di fattura nelle note dell'ordine in modo tale che comunque il nostro responsabile o addetto agli ordini una volta che riceverà il tuo ordine potrà inviarti il numero di fattura con il quale potrete procedere al pagamento sia con bonifico bancario sia con carta di credito attraverso il circuito Paypal. Quindi effettuerete un bonifico per detrazione. Spero che con queste piccole informazioni ti sono stato di aiuto e ti ringrazio per l'attenzione e ci vedremo nel prossimo video. Ti ricordo inoltre di iscriverti al nostro canale.